Questo è il vlog della mia giornata di venerdì scorso, solo che mi sono dimenticata l'esistenza! Mi sono preparata per andare in gara, ho preparato l'outfit, mi sono vestita con un miliardo di strati Veramente poco sexy, ma poco mi importava, anzi niente Qui stiamo andando, avevo la gara ma la spina e sono partita con Infinity a fare la 30 E poi l'ho fatta anche con Pina a Infinity, ho messo un sacco di brillantini che non si vedono Comunque con Infinity sono arrivata a sesto, ho fatto zero mentre con Pina non mi sono classificata Ho fatto un errore se non ricordo male, o due, poi ho messo via perché dopo che io faccio la gara, boh, catastrofe E dato che Bimbo non l'ho portato in gara sono tornata in maneggio a montarlo, guardate qui che golden hour Poi con questa maschera, boh, troppo bello, fantastico, comunque domani sarò in gara di nuovo e porterò anche lui Comunque di questo video è uscito un TikTok, ovvero l'ho strizzato un adecchio e ha fatto uno scarto e stavo cadendo Vabbè ho fatto la merendina e poi sono tornata a casa, mattina mega disordinata Ah è vero, ho fatto la spesa, ho comprato l'olio per i cavalli Ho fatto la doccia perché sono una persona pulita E poi poco fa ho comprato questo spray per i capelli, non so che cosa faccio Però molto buono, ho colcolato il mio cane, i miei cani e poi basta sono andato, ciao!